Ok, vediamo se così va bene Siamo dentro? Bella raga! Praticamente un mese che non prendo in mano una telecamera Siamo ancora in questa situazione particolarmente strana Questo video lo sto facendo in piena fase 2 E quindi ho preferito staccarmi anche un po' da tutti i vari video che facevo Anche perché poi va bene i podcast Poi la maggior parte dei miei video sono basati su esperienze di vita che faccio Che vi voglio raccontare Ma non ne stiamo facendo Cioè non stiamo facendo tantissime esperienze Però, attenzione, c'è un però Molte le avete viste su Instagram Oltre che nei miei video Se non mi seguite ancora Chiocciolina, c'è Luca Gazzoli Andate subito a followare Come si dice in questi casi il mio profilo Instagram Ma molte altre esperienze Io le ho fatte prima di incominciare questo mestiere, questo lavoro Prima che scoppiassero i social network Un po' scoppieranno davvero Ma quello è un altro discorso Anzi, in questi giorni sto riflettendo molto sul fantastico mondo dei social network Sto anche leggendo un libro Magari un giorno ne parliamo e vi racconto Tante cose le ho fatte anche prima Perché il mio percorso, grosso modo, è iniziato nel periodo in cui i social network hanno iniziato a crescere Ma soprattutto i miei viaggi in realtà sono iniziati molto prima Cioè dall'India e il Nepal ad esempio L'ho fatto proprio poco prima Ad esempio il mio primo viaggio negli Stati Uniti L'ho fatto nel 2010 Nel 2010 forse non ero neanche iscritto a Instagram E se ero iscritto su Instagram lo utilizzavo solo per modificare i filtri delle foto Non ero sicuramente iscritto a YouTube Non avevo mai caricato un video Facevo solo dei video così per me però Perché a me piaceva comunque fare video A me piaceva comunque Dunque io ho anche i video della gita di classe di quinta superiore Che è del 2007 Perché mi piaceva andare in giro con la telecamera Raccontare, riprendere, mi facevo i video E li tenevo per me e per i miei amici Io ho un sacco di video di robe assurde fatte con i miei amici Quando facevamo le robe tipo Jackass, le corse nudi nei supermercati Però quelle sono cose che non mi farò mai vedere Perché mi denuncerebbero Volevo approfittare di tutta una serie di video che ho Per raccontarvi non tanto il mio primo viaggio negli Stati Uniti Perché ci vorrebbero 10 video per raccontarlo Ma per raccontarvi una parte di quello che è accaduto a Miami Ora, io non voglio che questo diventi un canale dedicato solo al basket Anche se gli ultimi video coincidenza hanno avuto questo tema Sarà la crisi d'astinenza, da NBA, da basket giocato, da 3 contro 3, da campetto Ma anche dal calcio, dallo sport in generale Vi voglio raccontare di quella volta che ho tirato un tiro libero all'American Airlines Arena di Miami È successo davvero È successo davvero Ancora non facevo nulla di quello che faccio oggi Quindi non avevo, diciamo, nessun tipo di privilegio Se vogliamo metterla così Ma anzi, la maggior parte delle cose che ho fatto anche in passato E che voi magari avete visto o non avete detto Ma come ha fatto? Ma com'è? E semplicemente mi sono buttato Forza di volontà Determinazione e spirito di sacrificio Chiamatelo come volete Questa cosa è successa, come vi dicevo, nel 2010 All'epoca lavoravo ancora in un'agenzia viaggi Non avevo ancora iniziato con la radio, avevo fatto l'animatore nei villaggi Ma non avevo ancora, da lì a poco avrei sperimentato il mondo delle web radio Ma mi ero portato questa telecamera Fu un viaggio epico, un viaggio incredibile Con i miei amici, avevo 21 anni Primo viaggio negli Stati Uniti Prima tappa era New York Dove successe di tutto Magari un giorno vi racconterò quello La seconda tappa era appunto Miami Ci siamo andati durante la Winter Music Conference Facciamo così Io vi racconto le cose e nel frattempo magari vanno anche le immagini Prima ripresa Miami Beach Con questa videocamera Ho già ripreso con l'altra Perché che cosa è successo? Miami è un posto incredibile Voi immaginate i 4, 5, 6, 21 anni Con gli ormoni impazziti che arrivano a Miami Miami è una città totalmente esagerata Se ci siete stati Una città ecco Forse appunto il modo per definirla è esagerata Perché è tutto all'eccesso I manichini hanno le tette grosse Le macchine sono tutte macchine incredibili Cioè è tutto pimpato E noi ci ritroviamo lì insomma Volevamo andare alle feste Volevamo andare a vedere tutti quei posti Che avevamo visto nei film Oppure nei video su internet I pool party ragazzi I pool party Le feste in piscina Eravamo lanciatissimi Vorrei anche riprendermi anch'io perché Fondamentalmente sono venuto anch'io No problema Ciao mamma La Winter Music Conference è quel periodo In cui Miami si riempie di festival Di feste Appunto feste in piscina I DJ più importanti del mondo Vanno a Miami E nel periodo dello spring break Quindi nel periodo in cui I ragazzi del college Fanno pause Quindi possono andare a divertirsi Di solito puoi scegliere O vai a Tijuana Se ti vuoi disfare Quindi vai in Messico O se no puoi andare a Miami È un bel video Interribile Noi arriviamo Gasatissimi In realtà avevamo speso Gran parte dei nostri soldi A New York E quindi siamo arrivati Squattrinati Ma dov'è il mare? Che devo aspettare? La Brice la prende con un semaforo Ma io non me lo aspettavo Che ti puoi Prima di andare alle feste Cioè godiamoci la Miami E quindi a questo punto Cosa facciamo? Prendiamo anche la macchina A noleggio Voi pensate Io avevo preparato un cd Apposta Per quel viaggio lì Perché avrei preso Non sapevo che avremmo preso La macchina a noleggio E io volevo la colonna sonora Proprio per vivere Quelle esperienze incredibili Sono delle macchine cabrio Fighissime Americane Che ci facevano sentire Super power Cos'è che stiamo aspettando? Il messia Però per risparmiare il navigatore Lo mettiamo solo su una macchina Perché così Tutti vanno dietro a uno E abbiamo risparmiato di soldi Perché comunque Eravamo pur sempre poveri Fighissime Ma nel modo giusto E andavamo via Per queste strade Abbiamo attraversato Questo ponte bellissimo Che collegava Miami Alle isole Kiss Il nostro obiettivo Era arrivare a Key West Un'isola Fuori da ogni Logica Sembra di andare Veramente Non su un'isola Ma nella sezione Di Pirati dei Caraibi Di Disneyland Per arrivare a Key West Facevamo Sosta nelle altre isole Il bagno Rissalivamo in macchina Cose incredibili Cose incredibili Viaggio tra amici Forse uno dei viaggi più belli Che io abbia mai fatto Oggdor Carlo Carlo ma siamo nel saloon Più asciutto 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 Di riprendere le sue soldi Attenzione I telepass Americani Quello si chiamava Sunpass Non funziona esattamente Come il nostro telepass Giusto per darvi Due dritte Ci siamo dovuti fermare In un motel Che sembrava Classico motel Da film Per poter fermarci E pagare una multa Durante la Winter Music Conference Ti davano un libretto Con su scritto Il programma di tutte le feste Ogni giorno C'erano 15-16 feste A cui andare Alcune erano gratis Alcune erano a pagamento Noi abbiamo detto Vabbè dai andiamo a quelle gratis Però arrivavamo a quelle gratis E eravamo solo uomini E dicevamo Ma perché? Perché comunque In quella pagamento Le donne Entravano lo stesso gratis E quindi Se volevi andare In quelle fighe Con i DJ fighi E anche Le ragazze Solitamente anche molto belle Dovevi pagare Un sacco di soldi Quindi dopo aver capito Anche questo movimento Abbiamo detto Vabbè dai Allora andiamo Dobbiamo Oh dobbiamo farne Una fatta bene E allora che cosa succede? Pool party Con Bob Sinclair No dobbiamo andare Arriviamo lì fuori Costava un botto di soldi Ma raga come facciamo? Come facciamo? Ma siamo pure sei maschi Come facciamo? I PR a Miami Sono quasi tutti italiani O comunque ce ne sono molti italiani Un ragazzo italiano ci vede E ci fa una proposta incredibile Cioè ci fa Pagare Praticamente Meno della metà L'ingresso Con i bracciali E ci fa entrare da dietro Di nascosto Noi accettiamo Da una parte Noi ci abbiamo guadagnato Perché abbiamo pagato Meno della metà E lui ci ha guadagnato Perché Entrando da dietro Perché soldi si chi ha presi tutti lui Lo salutiamo Non so se guarderai mai questo video Siamo comunque debitori Perché fu un'esperienza incredibile Classici italiani Direte voi Però Però attenzione Fu un party pazzesco Entrati lì abbiamo visto cose che Non avevamo mai visto Nella nostra vita da 21 anni Questo l'ho visto su YouTube raga Poi potevamo bere Perché avevamo detto Andiamo a Miami Quando abbiamo Praticato in tutti i 21 anni Sennò non possiamo bere niente È successo Di tutto lì Ma è successo di tutto In quei giorni Saluto anche una ragazza di Denver Ti voglio bene Denver Così Lei sa Ma non guarderà mai questo video Chissà come si chiamava Però Altri tempi Ma perché Il succo cos'è? Che oltre a tutte queste cose Io Da invasato NBA Da invasato di basket Ero il più invasato di tutti Nel gruppo Non possiamo non andare a vedere Una partita di Miami Heat Dobbiamo andare all'American Airlines Arena Perché la partita NBA È qualcosa che va Oltre il basket Non siete particolarmente appassionati Ma vi capita Di intercettare una partita NBA Da qualche parte Andateci Perché è intrattenimento Tant'è che entriamo dentro Prima volta in un palazzetto NBA Io totalmente allucinato Poi a Miami Tra l'altro era il 2010 Prima di Lebron L'anno prima di Lebron Partita Miami Heat Contro Toronto Raptors Scioccato Dal clima di festa Innanzitutto Gente con popcorn E bibite ovunque Perché c'era il refill Il refill Cioè tu avevi la possibilità Di comprare una volta sola Il popcorn Una volta sola Le bibite E poi te le andavi a riempire Quante volte voli Anche perché in quel periodo Essendo pre Lebron James Miami cercava di incentivare Il basket Nella città E quindi c'erano un sacco Di offerte Anche i biglietti Erano particolarmente più convenienti Rispetto ad esempio Al Madison Square Garden In New York Finalmente ci sediamo i nostri posti Noi ovviamente gasatissimi Con le magliette Tant'è che a un certo punto Entrano in campo i giocatori Non capivamo niente Fantastico Ci gasiamo Ci danno i cosi gonfiabili Da sbattere Noi sbattevamo tutto Cannoni Sparamagliette Ragazzi Sai quando deve filare tutto Nel modo giusto Sparamaglietta Salto La prendo Ragazzi Tutta l'altra cosa Che mi colpì moltissimo È vedere il palazzetto Mezzo vuoto Praticamente Per metà partita Perché a Miami Come in tantissimi altri Poi Stati americani L'ho scoperto Soprattutto in regular season Che il biglietto Arriva dopo Cioè arriva in partita In corso Perché tanto Il primo quarto È così Si serve uno quarto Un po' così La partita si accende dal terzo E arrivano i tifosi E soprattutto i tifosi di casa E quella roba Mi ha sciocato Ho detto Cazzo ma c'avete la partita NBA Lì fissa E non ve l'ho andata a vedere dall'inizio Infatti Anche la partita all'inizio È stata abbastanza blanda Addirittura Toronto stava andando molto bene Fino a che a un certo punto Ricordo che Più o meno verso la fine del terzo quarto O addirittura all'inizio del quarto Wade fa così Fa Ah cazzo ma Siamo qui che stavano giocando Non avevo capito Pa 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 Wade non so Fa tipo Dieci canestri consecutivi E vanno a vincere la partita E noi Abbiamo vinto Noi ormai eravamo di Miami Usciamo E io dico Raga no fermi fermi Devo tornare dentro Che devo andare a fare Almeno una foto con l'arena vuota Ritorno dentro E vedo Che ci sono delle persone Che stanno entrando in campo In fila indiana Sono in coda Entrano E tirano Attenzione Cosa vuol dire Non posso lasciarmi scappare Questa cosa Vado giù di corsa Mi metto in coda Anche io Sto lì Facciamo un passo alla volta Mi spiegano Queste persone che sono qui in coda Che non erano tante Erano una decina in realtà Avevano vinto un concorso Un premio E quindi avevano la possibilità Di tirare Un tiro libero Dall'America Nella Isaria di Miami Cioè è come tirare un calcio Di rigore a San Siro Io questo premio Non l'ho vinto Ma fa niente Continuo ad andare avanti Fino a che poi è effettivamente Il mio turno C'è una guardia gigante Me la ricordo Benissimo Una guardia di colore gigante Io la guardo Lui mi guarda Io la guardo Lui mi guarda Io la guardo Lui mi guarda E io gli dico Per favore Per favore Per favore Non tornerò mai più Sono venuto qui apposta Non tornerò mai Sono italiano Per favore Sono venuto qua Sono un grande tifoso Per favore Fammi tirare Lui mi guarda Io lo guardo Lui mi guarda Io lo guardo Già dentro C'era un signore Un signore che ha sentito Tutta questa scena Il signore si gira Io lo guardo Lui mi guarda Io lo guardo Lui lo guarda Lo guarda Io lo guardo Lui mi guarda Io lo guardo Lo guardo Mi guarda Lo guardo La guardia Fa finta Di guardare Da un'altra parte Alza la testa in aria La persona che era dentro Prende il suo biglietto Con il quale era entrato Il biglietto vincente Me lo passa A me che sono fuori Mi fa un sorriso Io prendo in mano Il biglietto Lo guardo Lui mi guarda Io lo guardo Lui lo guarda La guardia Riabbassa lo sguardo E mi apre la porta E mi fa entrare Io ero sul parquet Dell'American Airlines Salina di Miami Ma attenzione In realtà non ero proprio sul parquet Perché all'inizio Per non rovinare il parquet Ti fanno tipo una passerella Tipo red carpet Ma sono lì in campo Perché mi giro E era la mia prima volta In un campo NBA Poi negli anni Fortunatamente Successe altre volte In altre situazioni Ma lì avevo proprio Gli occhi dell'amore Superato il pezzo del red carpet Sono sulla lunetta Del tiro libero Dove ha tirato Wade prima Dove ha tirato Bosch Dove ha tirato Dove avrebbe tirato E comunque avrà tirato anche prima Lebron James tante volte Ero lì Mi passano la palla Un tiro libero solo Mi tenevano le gambe Perché non avevo mai vissuto Un'esperienza del genere Ancora Cioè Non avevo ancora giocato Contro Gianni Santito Kumpo Ma Ero lì È il mio momento Ho fatto tante volte Prendo la palla Sì Movimento Spezzo il polso La palla gira Sdang Poi Poi volevo fare un secondo tiro Perché di solito Il secondo lo metto sempre Ma Non me l'hanno fatto fare Però ragazzi Ho tirato un tiro libero All'American Air La insalena di Miami Alla prima partita NBA Che ho visto dal vivo Fu un'emozione incredibile Mi ricordo ancora Che fui gasatissimo Per tutto il giorno Non c'era Instagram Per poter postare il video Forse avrò messo la foto Su Facebook Non lo so Non mi ricordo neanche Cosa ho fatto Si dice Che Lebron James Abbia poi deciso L'estate successiva Di venire A Miami Proprio perché Aveva saputo Del mio tiro libero Voi quando avete visto La vostra prima partita NBA L'avete mai vista? La vedrete? Quale vorreste vedere? Che cosa è successo? Quali sono state le vostre emozioni? Che ne pensate di questo racconto? Perché il nuoto è uno sport completo? Scrivete nei commenti di questo video Io vi saluto Vi ringrazio E ci vediamo al prossimo video Sper di non far passare un altro mese Ma va così ragazzi È un periodo così E vabbè Ciao Ciao